Grazie a tutti Leggeremo le prime pagine dei quotidiani sportivi, partiamo subito dal Corriere dello Sport che dà subito spazio al calciomercato con la Roma. Rabiot e Roma, soffiato il francese alla Juventus, giallorossi a Parigi a fare quasi fatto il baby talento del PSG, costerà sui 5 milioni. I bianconeri che puntavano questo giocatore adesso stringono per Morata il baby talento del Real Madrid. Spazio anche al Mondiale che oggi riprende con i quarti di finale. Il Brasile ha paura a quarti di finale, c'è la Colombia, Neymar recupera e sfida Rodriguez, il talento emergente dei Cafeteros. Nel pomeriggio anche Francia-Germania, Deschamps all'attacco. Andiamo a vedere invece in posizione laterale, intervista esclusiva a Cantone. I clan criminali negli stadi, parla il magistrato anticorruzione di Renzi, sia al daspo preventivo. La tragedia di Ciro Esposito poteva essere prevista, curve chiuse, sbagliato, questa è la posizione del magistrato nell'articolo di Antonio Giordano. Ancora su questo argomento, vertice al Viminale, l'annuncio di Alfano, saremo inflessibili, i club collaborino. Spazio al calciomercato anche per quanto riguarda la sponda bianco-celeste. Caccia al difensore per la Lazio, Summit per Astori, la Lazio ci spera. Questo era il Corriere dello Sport, passiamo invece rapidamente alla Gazzetta dello Sport che mostra questa immagine di Toir con Mazzari e il titolo To Inter, gioco di parole, dove vai oggi il raduno della squadra di Mazzari. Scatta oggi quindi la prima vera stagione della squadra, firmata da Toir, con qualche certezza e molti interrogativi. Dalla rivoluzione silenziosa al delicato equilibrio finanziario guida ai grandi quesiti nerazzurri. Sponda milanista invece la dichiarazione shock di Berlusconi, ora balo a chi lo vendo. Il caso, il presidente del Milan svela il retroscena Montecitorio, l'ex premier altro che Italia, il mondiale l'ho perso io. Stavo vendendo Mario per 35 milioni a un club inglese. E ancora la foto di Cesare Prandelli che passerà probabilmente al Galatasaray, quindi la svolta e tasse pagate. Prandelli ok, Galatasaray, da lunedì. Ingaggio triplicato rispetto a quello di Commistario Tecnico Azzurro. 4,5 milioni lordi più un bonus per tre anni. Andiamo a vedere invece lo spazio riservato al mondiale. Neymar, James Rodríguez. Sfida stellare per la semifinale alle ore 22, Brasile-Colombia che ruota attorno al campione celebrato e l'ultimo fenomeno per loro gabbie speciali. E ancora l'altro quarto di finale a Rio, duello europeo alle ore 18 fra Germania e Francia. Müller attacca Francia, Deschamps punge. E poi il caso scoperto un traffico di biglietti in Dunga e Neymar Senior e altri VIP accusati di bagarinaggio. In taglio basso si parla di basket in NBA con l'incontro fra Gazzetta dello Sport e Belinelli. Folla per il primo italiano che ha conquistato l'anello. Entusiasmo per la guarda di Spursa. Appena vinci, pensi, voglio riuscirci ancora. E poi, su Gentile, spera che venga presto negli Stati Uniti. La Gazzetta dello Sport. Invece passiamo al messaggero con la sezione sportiva. Ovviamente anche qui spazio ampio riservato ai mondiali con il ritorno del Brasile e delle squadre europee. Quindi Francia e Germania. Il Maracanà ospita il duello tra giganti. A Rio si sfidano due nazionali forti sul piano tecnico eppure molto fisiche. La Germania ha un'altezza media di 1,87 cm. La Francia arriva a 1,81. Andiamo a vedere invece il Brasile. Un'intera nazione, l'intero Brasile contro i Cafeteros. La Colombia di Peckerman è avversario che spaventa sia la Selesao, sia la tifoseria, il commissario tecnico, scolari. Non sarà una guerra. Non sono maliziosi come gli argentini. Con questa dichiarazione potrebbe far arrabbiare, se vogliamo, una possibile candidata a disputare una spettacolare finale di questi mondiali. Ancora in posizione bassa. James si specchia in Neymar. Le stelle non stanno a guardare l'approfondimento che riguarda sempre questa partita. Rodriguez è schivo e timido, mentre l'altro vive a uso e consumo dei media, ma entrambi giocano per la squadra. Due profili diversi, ma che si sono messi in evidenza in questo mondiale. Andiamo a vedere invece le dichiarazioni di Didier Deschamps. Siamo qui per fare la storia. L'ex giuventino si lamenta però per il terreno troppo secco, ma daremo lo stesso il massimo. E ancora andiamo a vedere sempre sul messaggero la notizia di Cesare Prandelli, nuovo tecnico, prossimo tecnico del Galatasaray. Prandelli, cose turchi e questo è il titolo del messaggero. L'ex commissario tecnico italiano ha raggiunto l'accordo con il Galatasaray. Il presidente Unal Aysal qui tre anni vincerà lo scudetto. Cesare sceglie Istanbul per dimenticare la delusione azzurra, trattativa Lampo, cominciata pochi giorni dopo le dimissioni. E ancora la polemica su Balotelli. Berlusconi, il mondiale, l'ho perso io. E adesso chi mi compra Balotelli in riferimento al mondiale fallimentare dell'Italia e dell'attaccante azzurro, che probabilmente ha portato un processo di svalutazione anche del cartellino. Spazio anche alla questione FIGC, la corsa alla FIGC. Tutti vogliono un candidato unico alla presidenza. La Lega di A divisa blocca Albertini, Ajax e Lega di B studiano nomi alternativi a Tavecchio, che resta comunque il candidato principale. Dal messaggero passiamo alla sezione sportiva di Repubblica, con la conferenza stampa di Felipe Scolari. Notte da Fenomeni, Neymar o Rodriguez, uno è di troppo. Ovviamente c'è un solo posto per la semifinale, Statera il Brasile contro Incubi e Colombia. Scolari però è sicuro. Due passi e siamo in finale. Via i quarti, quindi sfida tutta sudamericana fra i pertoni di casa. È la squadra rivelazione di questo mondiale. Francia-Germania invece è il derby d'Europa. Il caso Prandelli, anche qui Prandelli va di fretta, passa pochissimo tempo e già c'è una possibile sistemazione per l'ex commissario tecnico della nazionale italiana, dal CT al Galatasaray. Comincia lunedì, questo è l'annuncio del presidente del club turco. Con lui inizierà una nuova era ed oggi ci sarà la firma, contratto milionario che durerà fino al 2017. Ancora su Repubblica l'approfondimento dedicato all'altro quarto di finale di quest'oggi. Un posto nella storia per i nemici d'Europa. Francia senza paura. Questo è quello che dichiara l'allenatore Didier Deschamps che dà la carica. Non abbiamo pressioni. Pogba e Benzema, uomini chiave della sfida ai tedeschi. La Germania però sfida tutti. Anche l'influenza. Non cerca alibi, scusate. Non cerchiamo scuse, malesseri, critiche, voci di mercato. Non turbano l'oeuvre. Giochiamo male e siamo qui, ai quarti, in uno stadio mitico. Suona la carica anche l'allenatore della formazione nazionale tedesca. Spazio in taglio basso anche allo scandalo biglietti che ha visto coinvolti diverse personalità famose. Il caso si allarga l'inchiesta. Coinvolti Dunga, tra l'altro ex allenatore proprio della nazionale brasiliana, Neymar Senior, padre del calciatore e le federazioni delle big. Scandalo biglietti, tremano FIFA e VIP. Ecco, ancora. Quindi, per quanto riguarda sempre i mondiali, da Iepes a Romero, quanto sono bravi gli scarti della Serie A. Sono tantissimi quelli che stanno dispuntando un'ottima rassegna mondiale. Può essere vinto appunto il mondiale da giocatori passati da noi senza lasciare traccia. Il Milan si è liberato di Untelar, la Samp dell'Argentino prestato al Monaco prima di difendere la porta di Messi e il Pescara preferiva Caprari a Chintero. Ecco, quindi, per quanto riguarda la rassegna mondiale, passiamo rapidamente da Repubblica allo sport di Corriere della Sera. Anche qui fa ripuntati sulla nazionale brasiliana. Cercasi Brasile, un paese intero, attende la grande squadra. La Colombia però prepara il grande colpo di James Rodriguez, grande talento che si è messo in mostra in questo primo scorcio di mondiale. Poi ancora Neymar e Neymar, l'insostenibile peso di essere il papà di un predestinato. Ricordiamo sempre la questione del bagarinaggio. il signor Da Silva tra la cura del figlio e i problemi con la giustizia. Sempre su Corriere della Sera andiamo a vedere quanto dice ancora Deschamps, Francia e Germania, il marchio di fabbrica del calcio europeo, collettivi che attaccano e difendono in undici. Il raffinato lavoro di Deschamps, una partita che si pronuncia tiratissima e poi gol non gol. La Moviola è un aiuto, per fuorigioco e rigori c'è un problema. La FIFA spinge, ma la situazione non è semplice per i falli di gioco. Gli stessi uomini di scienza e studiosi del calcio suggeriscono prudenza. Vediamo anche una foto di Seth Blatter, presidente della FIFA, che recentemente ha dichiarato di voler introdurre la Moviola in campo. Questo per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani sportivi e le sezioni sportive dei quotidiani nazionali. Dopo un piccolo break pubblicitario andremo a leggere gli approfondimenti dal web con Alessandro in trocaso per le ultime notizie in tempo reale. A fra poco. Grazie. 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 Grazie.